Ciao di crottine, ciao di crottine! Allora, questo sarà un video stravelocissimo ed è un video in collaborazione con un'azienda che si chiama Anni Jolie vi faccio di nuovo un video in collaborazione perché mi è arrivato questo pacco pensavo che non mi arrivasse più perché devo dire che questa azienda è stata un sì e un no io devo essere sincera con voi è un'azienda francese che mi ha contattato più di un mese fa il pacco è arrivato dopo un mese e mezzo e loro non mi hanno dato la conferma che mi sarebbe arrivato quindi non mi sono trovata diciamo benissimissimo però comunque ad essere arrivato è arrivato e i prodotti sono in buone condizioni quindi è anche un sì solo che di nuovo loro mi hanno dato un budget e io ho comprato tutte le cose per riempire il budget quindi erano 4-5 cose e me ne sono state arrivate solo due quindi non so se ci sono stati problemi hanno letto solamente due cose non lo so, due fatto sta che me ne sono arrivate due è arrivato tutto in questo pacco un semplicissimo pacchettino perché erano appunto due oggettini e vi faccio vedere un attimo cosa mi hanno spedito allora prima di tutto ho voluto prendere queste erano ovviamente insacchettate e tutto ok sono delle ciglia finte devo comprare la colla per ciglia finte perché queste sono stick sono ciglia finte stick appunto eccole qua nel senso sono sticker però ho provato a metterle ma non si attaccano devo metterci la colla e sono molto belle le volevo provare sono molto realistiche folte belle mi piacciono mi sono piaciute sembrano in buone condizioni poi sono giapponesi come vedete dalla scritta e giapponesi fanno delle buonissime ciglia finte perché loro appunto hanno poche ciglia poi un'altra cosa che ho voluto ricevere è questa collana con lo ying e lo yang è una collana di coppia come vedete ha lo ying e lo yang è adorabile e io l'avevo presa per regalarla a Francesco in pratica uno se lo prendeva lui o lo ying o lo yang e l'altro io solo che come vedete ce l'ho già perché appunto dato che non mi hanno dato la conferma io l'ho approfittato l'ho vista in un negozio e l'ho già presa questa al diamantino è molto più semplice di quella che ho vista nel sito comunque ora mi è arrivata e vedrò che cosa farci vi faccio vedere da vicino quanto sono carini lo ying e lo yang di questa collana hanno proprio il simboletto quindi è carina è veramente adorabile però non so che utilità farmi adesso che già l'ho fatta al mio ragazzo suppongo che la regalerò a qualcun altro sempre di coppia qualcuno per me è importante qualche amico o amica più amica e mi prenderò di nuovo un'altra parte bianca per avere due collane così è dono lo so comunque questi sono i due prodotti che mi sono stati inviati è un video velocissimo solo per farvelo vedere e guardate che belli i capelli vi sto caricando un video dove ve ne parlo ne approfitto anche per farvi vedere dei acquisti che ho fatto perché non lo so così per allungare un po' il video vi voglio far vedere prima di tutto questa maglietta molto bella con il pizzo bianca di Pinky che ho preso da Pinky ed è assolutamente bellissima l'ho adorata veramente bella e poi questi pantaloni qua bellissimi veramente belli a vita alta sempre presi da Pinky in questo modo qua sono fatti e li trovo veramente bellissimi li metterò sempre sono fatti così in questo modo e li ho adorati infine un altro acquisto molto bello sono queste scarpe qua sempre di Pinky ho preso tutto da Pinky e sono delle semplicissime Converse finte ovviamente perché appunto sono di Pinky ripeto e hanno la particolarità di avere qui tutto il pizzo sono adorabili a mio parere niente voglio far vedere questo per allungare un po' il video che è durato pochissimo qua da Elena è tutto un bacio grande spero che questo video vi sia piaciuto mi dispiace se ho fatto una pausa bella lunga solo che è un periodo un po' di alti e bassi quindi piano piano riprenderò a fare video ogni giorno oppure con distanze meno grandi niente qua da Elena è tutto un bacio grande ciao ciao